Cosa vuoi per cena? Ma mi fai la cotoletta? La cotoletta cosa? Ma cotoletta per favore Ok, sua maestà, porca puttana, il mio mignolino Puttana, no, non puoi dire quella parola Ok, ma perché? Tu non puoi dire quella parola, io posso perché mi sono aperta il mignolino Ok, bene Marco, cos'è successo? Ah, porca puttana Ehi, cosa ho detto su quella parola? Ok, forse è colpa mia, ma...